La questione smog diventa caso politico, passeggiano sui cadaveri di 68 mila italiani e il durissimo attacco di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, critiche anche da Salvini, sciacallaggio, commenta la maggioranza, mentre il ministro Galletti convoca sindaci e governatori per una risposta coordinata all'emergenza. Da oggi stop al traffico a Milano per tre giorni, mentre a Roma targhe alterne fino a domani. Si complica l'ite per i rimborsi agli obbligazionisti beffati dal decreto salvabanche, il fondo coprirà solo una parte delle perdite. Intanto oggi i risparmiatori manifesteranno di nuovo davanti alla sede centrale di Banca Etruria ad Arezzo, mentre dalle carte d'inchiesta spuntano verbali manipolati per nascondere le perdite. Le forze irachene annunciano la riconquista di Ramadi, città strategica da mesi nelle mani nei miliziani dell'ISIS. Gli ultimi uomini del Daesh hanno abbandonato le postazioni principali, mentre all'arrivo dei soldati di Baghdad la popolazione è scesa in strada per festeggiare i liberatori. La Russia mostra i video dei raid contro il traffico di petrolio dei jihadisti, colpite 2000 cisterne dirette in Turchia. Oltre 40 morti negli Stati Uniti, devastazioni da tornado e inondazioni. Le zone più colpite sono quelle del Midwest, gli stati meridionali Texas, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Alabama. In Inghilterra emergenza per le alluvioni nel nord del paese, centinaia le persone evacuate. Mobilitato l'esercito per i soccorsi. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del Tg di La Sette, sono le 7.30. Allora, è diventato anche caso politico l'emergenza inquinamento e smog che sta attanagliando tutte le più importanti città italiane. È scontro con l'opposizione che critica le iniziative del governo, troppo, come dire, delegate ai comuni senza un coordinamento nazionale. Il ministro Galletti interviene e annuncia che incontrerà sindaci e governatori per evitare che le iniziative per combattere appunto questa situazione pericolosa per la salute dei cittadini resti così casuale. Ma intanto, da oggi, scattano le misure anti-inquinamento. A Milano ci sarà il blocco totale delle auto per tre giorni fino al 30, auto private naturalmente, mentre a Roma ci sono solo targhe alterne. Oggi e domani e le polemiche non mancano. Ancora poche ore e Milano chiuderà le auto. Alle 10 scatta il divieto di circolazione fino alle 16, una misura decisa dal comune dopo oltre un mese in cui i valori di PM10 sono andati ben oltre la soglia consentita di 50 microgrammi per metro cubo. Il sindaco Pisa Pia rivendica di aver avuto il coraggio di questa scelta impopolare che durerà fino a mercoledì 30 dicembre. Allo stop aderiscono però solo 12 dei 134 comuni dell'Interland. Solamente Pavia si allinea allo stop totale, a Bergamo invece targhe alterne, mentre a Monza è vietata la circolazione agli Euro 3. Le deregue sono state ampliate per chi è in tasca un biglietto del treno, aereo o traghetto. Chi circola non dovrà superare i 30 chilometri all'ora, per chi sgarra sono previste sanzioni pesanti fino a 633 euro. Per questo pomeriggio il governatore Maroni ha convocato i vertici del Lanci. L'obiettivo è quello di coinvolgere con un blocco totale tutte le regioni della Valpadana. Roma invece affronta la cappa di inquinamento mantenendo le targhe alterne. Oggi si fermano le dispari. Un ripiego per i verdi che chiedono al commissario Tronca il coraggio del blocco totale come a Milano e minacciano denunce in procura. Torino non ha ancora un piano, rimane valido come a Roma e Milano il biglietto per i mezzi pubblici valido tutto il giorno. Dunque le città assediate dallo smog affrontano in modo diverso la minaccia delle polveri sottili mentre si guarda al cielo sperando nella pioggia, ma il meteo annuncia sole e tempo stabile almeno fino a dopo Capodanno. L'inquinamento diventa un caso politico. Beppe Grillo richiama i dati di Stat che registrano nel 2015 una impennata della mortalità. 68.000 decessi in più rispetto al 2014. Morti di guerra in tempo di pace, scrive Grillo sul blog. Le nostre città non sono state bombardate da potenze straniere ma vivono sotto l'assedio di nemici silenziosi. Paghiamo la spocchia del governo e tra un po' sarà vietata la circolazione delle persone. Per Matteo Salvini i blocchi delle auto non servono. Il problema sono le caldaie dei palazzi, il resto è aria fritta, anzi aria sporca a Larenzi. Replicano i verdi con Angelo Bonelli. Quei conti sono sbagliatissimi. Salvini studi la materia. L'inquinamento su gomma contribuisce almeno per il 50%. Polemiche e politiche a parte. Per mercoledì il ministro dell'Ambiente Galletti ha convocato a Roma un vertice per coordinare gli interventi contro l'inquinamento. Ancora la vicenda banca in primo piano. Oggi ci sarà l'audizione al CSM del procuratore di Arezzo Rossi che dal 2013 è consulente del governo. Consulenza che peraltro scade con la fine dell'anno. Mentre ad Arezzo proprio oggi ci saranno nuove proteste dei risparmiatori che vedono messe a rischio. Sono gli obbligazionisti che hanno sottoscritto quei titoli che si sono rivelati tossici delle quattro banche salvate dal governo che chiedono il rimborso che in questo momento per loro non sarebbe integrale. L'appuntamento è alle 8 e mezza davanti alla sede retina di Banca Etruria. Lì fino alle 16 e 30 vi sarà un presidio delle vittime del salvabanche e la quarta manifestazione di protesta in un mese. I risparmiatori contestano testuale l'indolenza della nuova Banca Etruria nel trovare una soluzione per le vittime di questa criminale manovra e i paletti posti dal governo alla normativa sui risarcimenti. Vorrebbero un riborso integrale ma al momento c'è solo il fondo di solidarietà da 100 milioni istituito dalla legge di stabilità e destinato al ristoro di coloro che gli arbitrati stabiliranno essere stati in qualche modo truffati. Per ottenere una compensazione poi ci sarebbero le cause legali. In questo caso sono state le quattro good banks nate dopo il salvataggio al termine dei consigli di amministrazione tenutisi alla vigilia di Natale a chiarire che loro non possono né attivare nuove procedure di responsabilità né possono essere oggetto di azioni dei precedenti soci o obbligazionisti subordinati che dunque dovrebbero rivalersi sulle quattro vecchie banche, ormai di fatto scheletri e sangui, in liquidazione coatta. Che le vecchie banche siano incapienti è tutto da dimostrare, dice alla stampa il presidente dell'Abi Patuelli che peraltro sostiene di non trovare scandaloso che una parte delle loro eventuali plusvalenze vada anche agli obbligazionisti. Ma oggi è anche il giorno del procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi al CSM verrà ascoltato in merito ad eventuali profili di incompatibilità tra il suo incarico di consulente del governo autorizzato peraltro dallo stesso CSM ai tempi e il suo ruolo di coordinatore delle inchieste su Banca Etruria. Intanto oggi il Corriere della Sera pubblica le accuse degli ispettori della vigilanza della Banca d'Italia agli ex vertici di Banca Etruria elencate nel procedimento disciplinare contro questi ultimi si va dai numeri falsi sulle sofferenze ai conflitti di interesse non dichiarati. E ora andiamo in Iraq dove si starebbe per concludere la battaglia per la riconquista da parte delle forze dell'esercito regolare di Baghdad della città di Ramadi uno dei bastioni del Daesh, dell'Isis nel paese medio orientale. Ieri gli uomini dell'Isis, i terroristi, gli uomini del califato si sono ritirati dal cosiddetto compound di governo. Sostanzialmente è la postazione centrale che avevano nella città. A questo punto a Ramadi ci sarebbero solo retroguardie e cecchini ed è atteso per le prossime ore l'attacco finale che dovrebbe liberare definitivamente la città dalle presenze dei miliziani neri. L'offensiva degli uomini dell'antiterrorismo iracheno supportato dall'esercito di Baghdad e dei caccia della coalizione internazionale a guida americana era iniziata il 18 dicembre scorso su spinta degli ufficiali statunitensi coinvolti nella liberazione di Ramadi. Dopo dieci giorni di ulteriore assedio alle milizie dei tagliagole di Abu Bakr al-Baghdadi l'attacco finale sarebbe stato sferrato nelle ultime 24 ore da tre diverse direzioni. Obiettivo principale è il controllo del compound occupato sino a poche ore prima dalle milizie di Daesh nel centro di Ramadi. Usiamo ancora il condizionale perché conferme definitive della riconquista della città non ci sono ancora anche da Washington. Nessuno sino ad ora ha ribadito l'esito della battaglia che invece secondo fonti irachene si sarebbe conclusa con il ritiro dal loro ultimo bastione dei terroristi del sedicente Stato Islamico. Se tutto ciò venisse davvero confermato si tratterebbe del primo autentico successo delle forze irachene contro i tagliagole che un anno e mezzo fa occuparono questa città considerata di importanza vitale e strategica. Essendo capoluogo della regione di Al-Ambar e distante solo 100 km dalla capitale Baghdad e incrocio di confine tra più stati, tutti direttamente coinvolti nella crisi regionale. Un successo reso possibile grazie al supporto dei paesi coalizzati sotto la bandiera americana in Iraq dalle armi fornite agli iracheni all'addestramento, al lavoro di intelligence, a quello dell'aviazione che nelle ultime settimane ha spianato la strada verso Ramadi alle truppe regolari con intensi bombardamenti dal cielo. I carri armati iracheni sarebbero entrati a Ramadi in tarda serata ad accoglierli tra quello che rimane di questa città squassata da oltre un anno di guerra gli abitanti che non l'hanno abbandonata dopo l'arrivo dei miliziani di Daesh in queste ore dati in fuga verso il confine siriano. L'altra notizia che arriva da questo scenario è quella che arriva da Mosca. I generali di quel paese hanno infatti mostrato le immagini di alcuni raid degli aerei, dei loro aerei, che hanno colpito centinaia di cisterne che dicono stavano trasportando il petrolio rubato dall'Isis in diverse aree conquistate sotto il controllo del califato, stavano trasportando questo petrolio di nuovo verso la Turchia. Quindi Mosca conferma le sue accuse ad Ankara ancora una volta mostrando delle immagini. Decine e decine di convogli che Mosca bombarda da giorni. Siamo al valico siriano-turco di Zako, afferma il generale russo Rudoskoi, dove è stato contato il transito di almeno 12.000 cisterne. La prova, dice, del contrabbando di petrolio dell'Isis verso la Turchia. Immagini che arrivano dopo le esplicite pubbliche accuse mosse nei giorni scorsi contro il presidente turco Erdogan, accusato da Mosca di fare affare in prima persona e con la sua famiglia con il petrolio dell'Isis. Con una parte di quelle tonnellate e tonnellate di oro nero estratte ogni giorno dai pozzi in Siria e d'Iraq in mano all'autoproclamato califato, prima fonte di finanziamento dei miliziani di al-Baghdadi. A poco più di un mese dall'abbattimento del jet russo da parte dell'aviazione di Ankara la rappresaglia promessa da Vladimir Putin comincia dunque ad avere contorni più chiari e adesso per Erdogan sarà più difficile continuare a negare, come ha fatto fino ad ora, ogni tipo di coinvolgimento. Non è un caso però che questa conferenza stampa arrivi a pochi giorni dall'uccisione in Siria di 0 a 1 al-Aush, uno dei leader più influenti dell'opposizione siriana al regime di Damasco, accanto alla quale combatte l'alleato russo. La Russia è infatti accusata dalla comunità internazionale e dagli Stati Uniti in primis di bombardare più che Isis i ribelli anti-Assad, che in questo momento sono schierati anche contro Isis. A ben guardare però la situazione è più che complessa, visto che uomini come al-Aush non sono certi strani allo jihadismo e lo stesso al-Baghdadi nel suo messaggio audio si rammarica della sua morte. Allora, l'abbiamo visto in apertura. In Italia la situazione del tempo vede niente pioggia, assenza totale di pioggia e quindi smog persistente e inquinamento alle stelle. Le perturbazioni climatiche, le difficoltà nel clima, il tempo che cambia, i grandi mutamenti dei quali si è parlato a Parigi hanno provocato invece effetti devastanti e contrari ad esempio negli Stati Uniti, dove sono 43 i morti per il maltempo, fra inondazioni e tornado. Non ci saremmo mai aspettati che potesse accadere una cosa del genere qui e soprattutto a Natale. Nelle parole di questo consigliere comunale di Birmingham in Alabama c'è tutta la disperazione di una cittadina travolta dalle alluvioni, una scia di tempeste e tornado si è abbattuta sugli Stati Uniti centro-meridionali che sono stati letteralmente devastati, 43 le vittime dell'ondata di maltempo iniziata il 24 dicembre e il bilancio è destinato ad aumentare. I tornado hanno scoperchiato le case, colpiti interi quartieri che sono stati devastati. Lungo le strade sono stati sradicati alberi, pali della luce e travolte le auto. Sono felice di essere ancora viva dopo che l'uragano ha distrutto la mia casa. Le trombe d'aria hanno spazzato anche il Texas e in particolar modo Dallas. Solo qui sono morte 11 persone per lo sciame di tempeste che hanno causato una serie di incidenti stradali. L'ondata inusuale di uragani per dicembre è solo l'ultimo di una serie di eventi anomali che si stanno abbattendo sugli Stati Uniti come nel resto del mondo. Colpiti dalle trombe d'aria anche il Mississippi, Tennessee, Arkansas e Alabama. In molti stati dell'America centrale c'è l'allarme meteo per tempeste di neve e rischio inondazioni dal Texas all'Indiana. Continua intanto lo stato di allarme per le alluvioni in Gran Bretagna causate dalle piogge torrenziali. Nello York, a 320 km da Londra, la polizia ha fatto allontanare almeno 300 persone dalle loro abitazioni minacciate dal fiume che ha raggiunto livelli eccezionali. In aiuto della popolazione è rimasta senza luce isolate, è arrivato anche l'esercito. E oggi a queste popolazioni farà visita il premier britannico David Cameron. Intanto in Cina, ieri, la decisione finale che cambia una politica durata 36 anni. Il Parlamento infatti ha approvato l'abolizione del figlio unico. Le coppie a questo punto, dopo 36 anni, potranno tornare ad avere due figli. Ed è veramente una rivoluzione in quel paese. Dopo 35 anni si chiude in Cina l'era del figlio unico. Una svolta storica. La legge varata ieri dall'Assemblea nazionale del popolo autorizza le coppie ad avere due figli. Annunciata il 29 ottobre scorso e in vigore dal 1 gennaio, la nuova norma adottata in risposta all'invecchiamento della popolazione archiverà la mal digerita politica demografica imposta finora nel paese più popoloso del mondo. Varata nel 1979, fino ad oggi la legge sul figlio unico è stata difesa a spada tratta dalle autorità. che, cifre alla mano, la definiscono un successo. Se non ci fosse stata, sostengono, la crescita della popolazione sarebbe stata superiore di 400 milioni di persone al miliardo e 376 milioni e 48 mila attuali. Già nel 2013 il testo era stato attenuato con l'ampliamento del numero di eccezioni alla regola generale. Ma dietro il contenimento delle nascite, soprattutto nelle province, ci sono stati abusi terribili come aborti forzati, pestaggi dei genitori fuori legge, licenziamenti e, in alcuni casi, la morte. Potendo avere un solo figlio, molte coppie sono ricorse anche agli aborti selettivi per cercare di avere un maschio a tutti i costi. Si è arrivati così ad uno squilibrio demografico di genere. Gli uomini sono infatti molti di più delle donne, al punto che, secondo gli esperti, almeno 20-30 milioni di giovani di sesso maschile sono destinati a rimanere scapoli. La nuova norma permetterà ai circa 13 milioni di cittadini non registrati all'anagrafe, perché nati in violazione della politica del figlio unico, i cosiddetti bambini in nero, di ottenere i documenti necessari a regolarizzare la propria posizione. Da gennaio, quindi, anche loro potranno godere di diritti fondamentali come l'istruzione e la sanità. C'è la solidarietà totale del mondo politico e dello sport per le ragazze del calcio a 5 di Locri. Militano in Serie A e in questo momento non giocherebbero per le minacce ricevute dal presidente e dalle stesse giocatrici. Il caso dello sport in Locri ormai è diventato un caso nazionale. Ieri sera è intervenuto anche il ministro dell'istruzione. Ragazze, vi vogliamo in campo, ha scritto in un tweet Stefania Giannini, dopo che per tutto il giorno il mondo sportivo si era mobilitato. Il presidente della Federcalcio l'ha definita una vergogna. Siamo uniti contro la violenza, ha detto Tavecchio. Stesso tono usato anche dal presidente del CONI, Malagò che ha affermato lo sport italiano è al loro fianco. Vogliamo vederli in campo alla prossima partita. Il prefetto di Reggio Calabria da parte sua ha già disposto misure di sicurezza per tutti i dirigenti. Game over, c'è scritto sulla pagina Facebook della società di calcio a 5 femminile di Serie A. Chiuso per dignità, è la scritta che invece appare sul sito. Chiuso perché il presidente sostiene di aver ricevuto ripetutamente minacce. Biglietti lasciati sulla sua auto in cui ci sarebbero state intimidazioni anche nei confronti della famiglia e della figlia di tre anni. Con le ragazze quinte in classifica in piena lotta a Scudetto e un'indagine subito aperta dagli inquirenti. Alcune delle ragazze arrivano da fuori e vivono in un ostello confiscato alla mafia. Ma sulla pista della criminalità organizzata gli investigatori hanno seri dubbi. Intorno alla società poi non ruotano molti soldi. Del resto il calcio femminile non è redditizio. Anzi, sono molte le società in crisi che tirano avanti con difficoltà. E così ora si controllano anche i conti dello sport in Locri. Il presidente Armeni ha ribadito che la società nonostante il sostegno ricevuto chiuderà lo stesso. Se qualcuno è disposto a rilevarla la cedo anche gratis, ha detto. Una dichiarazione è arrivata ancora prima che le indagini abbiano chiarito la fondatezza o meno di quelle minacce. Il calcio giocato è fermo in molti paesi europei. Alcuni dei più grandi protagonisti si sono dati appuntamento per un premio in Dubai. Fra coloro che l'hanno ricevuto c'era anche Andrea Pirlo. I 25 gradi di Dubai non sono poi molti in più rispetto a quelli che si sentono da noi. Ma neanche l'anticiclone sarebbe riuscito a radunare tanti VIP del calcio mondiale Michel Platini compreso. L'Italia ai premi di Global Soccer era ben rappresentata. Andrea Pirlo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla carriera. Un onore che ha condiviso con un'altra grande bandiera l'inglese Frankie Lampard. Gigi Buffon è stato preceduto nella classifica 2015 soltanto da fuoriclasse come Messi e Cristiano Ronaldo. A livello di squadre ha vinto naturalmente il Barcellona ma nelle chiacchiere a margine della serata si è parlato soprattutto di Neymar. Il campione brasiliano si è lasciato scappare una frase che ha subito fatto il giro del mondo. La vita è lunga, chissà. Un'avventura nel campionato inglese non è impossibile. D'altronde a Chelsea e Manchester City quest'ultimo decisa ad accontentare le richieste di Pep Guardiola non mancano certo i mezzi per convincere Neymar a fare le valigie per l'Inghilterra. Un approdo, in particolare il Chelsea che sembra piacere molto in chiave futura anche agli italiani Antonio Conte e Massimiliano Allegri al timone di Nazionale e Juventus. Potrebbe allora essere uno di loro a sostituire il traghettatore Hiddink a fine campionato. In corsa però ci sono molti fra i tecnici più famosi al mondo. Nella lista di Abramovic non compare il nome di Rafa Benitez sempre più vicino all'addio al Real Madrid. Il presidente Florentino Perez pensa alle risorse interne. Vorrebbe infatti il tecnico della seconda squadra Sinedine Zidane. Dopo giorni di incertezza la riserva sarebbe stata sciolta lasciando così fuori dalla ciudad deportiva allenatore di grido come Capello e Mourinho destinato a sedersi già ai primi di gennaio sulla panchina del Manchester United ma potrebbe addirittura diventare selezionatore dell'Inghilterra dopo gli europei. Previsioni meteo con Paolo sotto corona subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Paolo Magri dell'ISPI Antonio Polito del Corriere della Sera Daniela Preziosi del Manifesto Federico Rampini di Repubblica e Francesco Specchia di Libero. Prossimo appuntamento con le notizie alle 13.30 con il telegiornale. Noi ci vediamo domani mattina alle 6.30 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.